Sono deluso perché siamo entrati bene in materia, abbiamo avuto addirittura due o tre palle per fare il 2-0 dopo il tiro di Ollenstein, un po' fortunoso, è stato bravo per un piatto nella piazzata 1-1 poi secondo tempo volevamo fare bene, volevamo pressare, questa punizione qua con il gol di Audino è stato anche un po' fortunato, abbiamo provato e poi sui due contropiedi non siamo stati bravi comunque penso, io non posso rimproverare nulla ai miei giocatori, rimprovo solo a me stesso questa volta non sono uno che le va a dire, mi prendo tutta la responsabilità io non do nessuna colpa ai giocatori, l'unica colpa è il sottoscritto perché ha voluto fare degli esperimenti però penso che sono giusti da fare in questo momento perché se non dovessi fare adesso non so quando li farei, per cui niente, posso solo dire male bordoli e basta Assolutamente, si hai ragione, è che abbiamo provato, proviamo a fare la partita tante volte prendendo le imbarcate sulle ripartenze e questo non deve succedere per fortuna ho detto anche ai ragazzi che lunedì arriva un'ottima squadra che potrebbe metterci ulteriormente in difficoltà è un bellissimo test e qua si vede veramente chi saremo lunedì sia contro questa squadra ginevrina perché sono convinto che se abbiamo gli attributi giusti tireremo fuori tutto quello che abbiamo dentro e cercheremo almeno dal lato dell'agonistico e dell'impegno di fare del nostro meglio degli esperimenti probabilmente anche per vedere, avere risposte magari certo, certo più di 15 minuti veramente bene, cioè si lo so solo voi in campo, poi zero zero no perché dopo, perché l'hanno trovato questo no esattamente questo, è questo esattamente no no niente speciale, è come l'altra volta col BL non hanno fatto niente speciale non abbiamo fatto questo, fa preoccupare perché perché gli avversari giocano magari al nostro livello anche meno di noi e vanno via dal coronario con quattro reti non deve succedere perché questo qua è qualcosa di impensabile, c'è qualcosa che non va o ritorniamo a come prima, pensare solo a fare il risultato e poi vediamo il resto, però dato che siamo in questa situazione è giusto che i ragazzi provino a giocarsela fino in fondo e poi qua si vede cosa abbiamo bisogno anche nel futuro perché se noi dovessimo giocare e prendere questi imbarcati forse abbiamo bisogno di altri giocatori nelle transizioni perché se dovessimo andare avanti sempre così e prendere quattro gol è meglio cambiare modulo o meglio ancora atteggiamento di entrare in campo di giocarsela meno, aspettarli e poi ripartire ripeto, ci sono stati cambiamenti anche dovuti alla squadra di Everton direi che era faticato, il metà campo me lo sono inventato ed è giusto che qualche giocatore abbia trovato spazio ai minuti devo essere bravo anch'io a trovarmi queste motivazioni e a trasmettere alla squadra lo so che non è così evidente perché si dicono parole e poi è il campo che comanda è un buon panco di prova per il sottoscritto e anche per i giocatori perché noi dobbiamo onorare questa maglia, noi dobbiamo onorare la gente che ci mette tanti soldi, passione e sacrifici perché essere anche a testa di questa società non è evidente, una squadra con un nome importante e noi non possiamo fare queste prestazioni per cui noi dobbiamo onorare come detto Pocanzi la maglia del Lugano in primis e poi la gente che ci mette veramente tanto, cuore e anima per cui i giocatori che vogliono rimanere devono tirare fuori questi aspetti che ho appena elencato se così non fosse vuol dire che non siamo pronti per questa società